buongiorno a tutti siamo felici di essere qui la fide all'interno del progetto a stag vogliamo fare scuola fase 2 ha organizzato un evento che ha coinvolto i ragazzi delle nostre scuole a livello nazionale da tante regioni che saranno sono stati saranno veri protagonisti di questo evento siamo certi che è una bellissima opportunità formativa per le nostre scuole oltre ad essere un momento anche di appartenenza alla rete fide ma soprattutto è un momento grande perché ci sono parole dedicate ai nostri ragazzi e soprattutto in questo momento di grande incertezza e precarietà la fide ha già proposto iniziative che ha visto un'ampia partecipazione uno per tutti penso all'evento in presenza io posso a roma che ha coinvolto circa 4.000 giovani proveniente da tutto il mondo e quando abbiamo lanciato questa iniziativa auspicavamo almeno un 3.000 persone ma abbiamo superato questa aspettativa perché ci sono prenotate circa 1.500 postazioni molte di queste postazioni sono intere classi o addirittura inter istituti riunitisi in arabole più ampie innanzitutto io saluto tutti voi ragazzi qui presenti che avete risposto a un appello a una chiamata e ci siete ringrazio in modo particolare il liceo maria ausiliatrice di roma che si è reso capofila di questo evento e ha coinvolto un po tutte le altre scuole un grande evento culturale con lo scrittore alessandro d'avenia che saluto e ringrazio per la sua disponibilità ma soprattutto per la passione educativa che in ogni momento sa mostrare di quanto amore abbiamo bisogno per avere un volto ecco io spesso ripeto che nella situazione della dad che ci ritroviamo spesso coinvolti in questi giorni e non dobbiamo perdere un'attenzione quello dell'incontrare il volto gli occhi dei nostri ragazzi la relazione che nonostante uno schermo non può non può essere trascurata e la riflessione di oggi va proprio in questa direzione verterà sulle tematiche dell'ultima opera del d'avenia l'appello e in accordo con l'autore abbiamo chiesto ai ragazzi di prepararsi pertanto saranno protagonisti vivi di questo evento con le loro domande e con le loro attese e do volentieri la parola a suor paola murro figlia di maria ausiliatrice preside del liceo maria ausiliatrice di roma e consigliera della fide nazionale e come consigliera i referenti appunto del progetto vogliamo fare scuola grazie a tutti e a te la parola a suor paola paola dovresti attivare il microfono anche spento non mi avete sentito benissimo allora buongiorno a tutti ecco ringrazio la presidente a nome di ciascuno per aver fatto in modo che questo incontro si realizzasse oggi ringrazio in modo particolare la consulente della mondadori la signora rossana frigeni per aver fatto da tramite in questa mission impossible sappiamo che appunto alessandro è un po allergico a parlare in dad a parlare online però ce l'abbiamo fatta e ti ringraziamo appunto per aver accettato questa mega dad di oggi una tua frase recente in un'intervista è stata proprio questa la classe è un luogo in cui si va in scena perché si mette in scena la decisione di crescere e noi oggi vogliamo mettere in scena un momento formativo per la crescita individuale di ciascuno pertanto i protagonisti di oggi come ha già detto ecco la presidente saranno proprio loro i nostri ragazzi con te chiaramente quelli che ogni giorno ci regalano la loro presenza in presenza o a distanza grazie alessandro abbiamo preparato oggi per te una aula virtuale una mega aula virtuale e noi ci mettiamo in ascolto e a voi tutti la parola grazie grazie a voi buongiorno professor da venia io rispondo subito all'appello e mi presento il mio nome è alessandro e anche se in realtà io credo che il proprio nome rientri da quelle cose che nessuno sa quando sceglie di capire il significato o fin quando non desidera dargli un significato infatti è stato proprio l'anno scorso leggendo cose che nessuno sa sentendo la storia di margherita che ho cercato di capire quale fosse il significato del mio nome o comunque di dargli il significato che volevo io in effetti alessandro è un nome lungo altisonante che ha anche un bel significato quello che è protetto di uomini e è proprio su questo tema il tema del nome che vorremmo riflettere con le prime domande e quindi chiamerei subito all'appello Elisa Ceresoli dell'istituto Madonna della Neve di Adro per la prima domanda buongiorno professore mi chiamo Elisa Ceresoli e frequento il secondo anno di luce scientifico Madonna della Neve di Adro nella nostra scuola sono presenti nel biennio dei gruppi di apprendimento traversali che prendono il nome da importanti figure quali Dante, Petrarca, Ocaccio per le prime Virgilio Omero per le seconde la mia classe è quella di Omero che si chiama proprio come il protagonista del suo libro l'appello a nome della mia scuola vorrei pure la seguente domanda si coda nel libro una forte passione per l'epica perché ha scelto nomi epici per descrivere la gran parte dei ragazzi del libro grazie bene intanto buongiorno buongiorno a tutti grazie dell'invito è vero come diceva Sor Paola che io sono un po' allergico alla dad tanto che ormai la chiamo sad perché mi porta così un po' di tristezza come credo anche a voi ma il fatto di vedere i vostri volti io sono a Milano quindi noi siamo al cento per cento in in dad voi invece alcuni vedo siete collegati dalle vostre classi quindi per me è impensabile che si riesca a fare una una scuola senza mura in questo modo quindi in fondo quello che poteva essere un ostacolo sta diventando un modo di entrare in contatto in maniera impensabile io mai avrei potuto fare un incontro con tremila ragazzi tutti insieme se non attraverso questo questo strumento e la cosa che più mi colpisce è che sento le vostre voci e vedo i vostri volti quindi in qualche maniera l'umano se proprio lo riduciamo all'essenziale di cui c'è bisogno per entrare in contatto è la sua voce e il suo volto e io vedendo i volti di voi per la prima volta il volto di alessandro di costanza di matteo di elisa dell'altra costanza mi chiedo quale storia ci sia dietro ascoltando il timbro della vostra voce sento come all'inizio tu avevi un po la voce impastata alessandro un po di emozione di magari di paura dire che figura faccio ecco questo è il bello è il bello dell'andare in scena che si vedono le nostre fragilità si vedono i nostri punti di forza si vedono le nostre stanze non so se vedete che io qui nella dalla stanza da cui mi sono connesso un bellissimo poster che hanno mi hanno regalato le mie sorelle che uno di quelle lettere degli alfabetari che servivano a imparare a scrivere le lettere quelle che c'erano alle scuole elementari e c'è un gruppo di lettere a me particolarmente caro che è gn no la nostra infanzia è stata popolata da gnomi perché l'unica una delle poche parole italiane che iniziano con gn è lo gnomo quindi siamo cresciuti con sti gnomi che entravano in classe nelle nostre teste io lì ho cominciato a immaginare le storie la mia prima storia è una storia nata dalla frustrazione della prima elementare quando mi hanno portato in questa nuova classe in cui non c'erano più i banchi disposti a cerchio dove appunto mettevamo le nostre mani dove c'erano i giochi disegni invece prima elementare erano tutti tutto in fila e io mi sono seduto all'ultimo banco tristissimo da solo la dietro vedevo solo le spalle degli altri era cambiato il mondo avevo paura ma mi sono reso conto che lì attorno c'erano questi cartelloni e questi cartelloni erano pieni di immagini di personaggi e mi chiedevo ma cosa fanno questi personaggi quando noi andiamo via da scuola che fa l'ognomo quando noi andiamo via da scuola e lì è iniziata il desiderio di raccontare storie di cogliere in essi invisibili tra le cose quasi che nella realtà c'è sempre qualcosa che emerge e poi il bello è andarci dietro quindi adesso vedo i vostri volti sento le vostre voci e mi chiedo ma che storia c'è dietro come sarebbe bello fare questo incontro oggi chiedendovi dai racconto un pezzettino della tua storia se dovessi dire qualcosa di veramente significativo e tu l'hai detto alle questa ricerca già del tuo nome va in quella direzione così come elisa che addirittura appartiene a una sezione se ho capito bene che che appunto si si ha come santo protettore omero addirittura omero niente poco di meno che omero intanto io vi ringrazio e devo dire che ieri ho passato un bel po del mio pomeriggio a leggere tutto il materiale che mi avete inviato prima di rispondere alla domanda di elisa perché volevo stare un po con voi prima dell'incontro capire che cosa era successo ed è bellissimo vedere io vi citerei tutti il powerpoint di del san giuseppe di vigevano con il paragone con pirandello il video del san lorenzo di novara il paragone con l'indiade dell'agnelli di torino e poi le domande del san giuseppe di lugo del bertoni di udine eccetera 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 grande premio a le domande di una scuola di cui non sono riuscita a ricostruire il nome perché non mi compariva che è stata capace di fare da una sola classe 42 domande quindi ero lì disperato dico se se solo una classe ne ha fatte 42 non oso immaginare se noi oggi rispondessimo a tutte le domande che mi avete fatto credo servirebbero tre o quattro giorni ho calcolato che siamo attorno alle 350 domande fra tutte le scuole che sono intervenute quindi per meno male che ne avete scelta una ne avete scelte solo alcune è una delle cose che mi è piaciuta di più è stata una lettera di una ragazza che mi piace citare che si chiama gaia che si è presa la briga di ringraziare cioè mentre tante tanti interventi erano chiediamo al prof cosa pensa cosa dice cosa cos'è questa cosa quest'altra gaia ringraziava era una lettera di ringraziamento ringraziamento del fatto che la lettura del libro l'aveva aiutata a capire un po di più a che cosa serve tutta sta messa in scena che chiamiamo scuola allora questa cosa mi ha commosso perché mi ha fatto dire ancora una volta valeva la pena scrivere questo libro anche solo per gaia perché quando si amplia almeno di un grado il cuore di una persona lo spazio di visione che ha sulla realtà allora vuol dire che la parola ha fatto quello che doveva fare noi siamo creati nelle per la parola per la parola e quando la parola è feconda apre vita quindi grazie gaia del tuo ringraziare l'altra cosa che mi è piaciuta molto è la confidenza di una professoressa di reggio calabria del maria ausiliatrice reggio calabria la professoressa marra se non sbaglio che confida che aveva preparato così i ragazzi e si aspettava la solita lezione in cui insomma un po dibattere del libro letto eccetera eccetera e si è ritrovata invece con una classe piena di così vita sollecitata appunto dalle parole lette e con cui hanno fatto poi un lavoro bellissimo di immaginazione di che cosa sarebbero stati fra cinque anni cioè ogni ragazzo ha pensato di rispondere al suo appello dicendo fra cinque anni chi sarò sono ragazzi di una prima e quindi dire l'anno della maturità chi vorrei diventare chi vorrei essere che cosa desidero ecco mi è piaciuta questa lettera della prof e il lavoro fatto dai ragazzi perché perché ancora una volta si dimostra un fatto ed è evidente dai lavori che avete fatto che la vita si apre nella misura in cui ci si apre alla vita io ho sempre amato un passo del vangelo molto strano che non si capisce mai quando gesù dice a chi ha sarà dato ea chi non ha sarà tolto anche quello che ha diceva che sfiga cioè sembra una frase bruttissima dice già ho poco e me lo togli a chi ha sarà dato ea chi non ha sarà tolto anche quello che ha è una frase bellissima epica e qui comincio a rispondere alla tua domanda elisa perché indica che cosa che la vita ci viene data solo nella misura in cui noi ci diamo alla vita a chi non ha sarà tolto anche quello che ha vuol dire che se ne è rimasto chiuso nel suo mondo per paura per vergogna per paura di non essere abbastanza per vergogna di essere sbagliato con mille alibi per dire la mia vita fa schifo non vale la pena mettersi in gioco e se ne è rimasto chiuso nella sua camera non nella sua camera reale perché la camera di un adolescente lo sappiamo un mondo in cui ricaricate le energie ed è giusto che sia un rifugio ma quando quella camera diventa una tana c'è un luogo in cui io mi difendo da tutto il mondo circostante non voglio più sapere niente o a campo mille scuse per non aprirmi alla vita ecco che la vita si spegne e quindi gesù quello che sta dicendo non è quel poco che hai te lo tolgo sta dicendo mettiti in gioco fai della tua vita una vita epica e tu elisa che hai come santo patrono protettore omero questo te lo devi mettere in testa benissimo perché io ho scelto come tu mi domandi tanti nomi presi dall'epica perché noi ci dobbiamo ricordare questo in un tempo in cui l'epica non esiste più ditemi qual è un romanzo epico dei nostri tempi ditemi chi è che scrive epica oggi nessuno più perché perché noi pensiamo che le nostre vite non debbano realizzare niente di grande qual è la domanda che si fa un bambino cosa vuoi fare da grande è una domanda sbagliatissima bisogna chiedere cosa vuoi fare di grande perché la grandezza è già nella persona lo diceva alessandro all'inizio nel tuo nome ale che è bellissimo io condivido la scelta dei tuoi genitori sono stati veramente illuminati a darti questo nome che condividiamo c'è proprio questa vocazione no colui che difende l'uomo pensa alessandro che io dovevo chiamarmi andrea andrea anche andrea un nome che viene dal greco ma vuol dire semplicemente uomo a nera andros poi quando sono uscito dal grembo di mamma mia mamma mi ha guardato forse perché era distrutta dal parto ha detto no 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 non si chiama andrea si chiama alessandro l'ha deciso sul momento ha aggiunto quell'aggettivo quel sostantivo prima di uomo alex andros perché andrea è dentro alessandro con rispetto di tutti gli andrea che sono collegati ma vuol dire proteggere l'uomo cioè mia madre nel guardarmi mi consegnava dandomi un nome la mia vocazione dice tu non devi solo essere realizzare la tua vocazione di uomo diventare uomo io ti ho dato la vita ma diventare uomo ci devi pensare tu e questo è epico perché richiede impegno sfida aprirsi alla vita ma non solo questo non solo devi diventare uomo ti do il compito di proteggere gli altri uomini uomo in senso ampio gli uomini e le donne che ti saranno affidati ora tutto questo discorso elisa e è proprio per dire questo che noi abbiamo perso una dimensione epica dell'esistenza perché perché non desideriamo più nulla di grande si accontentiamo di elemosinare un po di amore dagli altri attraverso il loro sguardo ma proprio questo elemosinare è un dipendere costantemente non dalla grandezza che già ci portiamo dentro ma il pretendere che quella grandezza ci venga dato dallo sguardo altrui questo a che cosa porta a uniformarsi pur di essere amati pensate e io per primo alle nostre biografie e all'immagine che mettiamo su instagram siamo molto più fighi molto più interessanti molto più amabili di come siamo nella realtà perché perché noi abbiamo bisogno di essere guardati noi abbiamo bisogno di essere amati e per questo proiettiamo sempre qualcosa di più rispetto a ciò che siamo perché perché in fondo pensiamo di non essere abbastanza di non avere abbastanza allora ci giochiamo tutto su un apparire abbastanza che finalmente costringa gli altri a dire ma che bec guarda che bello guarda che bello eppure elisa io non so se tu ti sei già innamorata se hai un fidanzato non ce l'hai quando si sta a quattro occhi con la persona che ci ama non raccontiamo come le biografie di instagram non facciamo vedere i nostri lati più belli ma cominciamo proprio dai punti più fragili da quello che ci fa più paura da quello di cui ci vergogniamo e questo perché perché da lì passa la nostra grandezza la nostra unicità com'è che si definisce qualche cosa disegnando nel perimetro dice dimmi che cos'è l'italia e tu che cosa fai disegni il profilo dell'italia cioè ne definisci i limiti noi invece pensiamo che per essere amati dobbiamo essere onnipotenti invece l'epicità della vita sta proprio nel mettersi a confronto con i limiti della vita perché da lì passa la nostra unicità allora visto che tu sei figlia di omero elisa ricordati che nell'odissea i primi quattro libri non sono dedicati all'eroe ulisse compare solo al quinto libro ulisse dice ma com'è possibile un libro intitolato a lui arriva solo alla quinta puntata l'odissea è la più grande serie televisiva mai mai pensata da dall'uomo il protagonista arriva solo alla quinta puntata e ci fa una figura pessima perché la prima scena in cui compare sta piangendo quinta puntata le prime quattro puntate sono dedicate al figlio telemaco che viene raggiunto da atena sotto mentite spoglie perché la il ritorno di ulisse dipende prima ancora che da ulisse stesso da le persone con cui lui ha a che fare le persone a cui è legato le persone che stanno a itaca telemaco penelope laerte il suo cane argo e i servi fedeli ma il primo di tutti è telemaco elisa che cosa vuol dire in greco telemaco telemaco è un nome che significa colui che combatte da lontano quel tele lo usi tutti i giorni e il tele che c'è nella televisione che c'è nel telecomando che c'è nel telefono cioè un tele a cui siamo abituati nella vita quotidiana vuol dire da lontano ma mentre in tutti quegli altri quelle altre paroline che seguono oggi tele visione fono comando c'è qualche cosa che rimane esterno a noi in telemaco c'è l'essenza dell'epica maco viene dal verbo greco macomai che vuol dire combattere chi è telemaco colui che combatte da lontano colui che sa già che c'è qualcosa di grande da fare ma ancora non ne vede la possibilità anche telemaco inizia l'odissea lamentandosi e mia madre piange sempre perché gli manca il papà e i pretendenti si stanno mangiando tutto e io non so che fare dalla mattina alla sera e se ne sta lì chiuso con tutti i suoi problemi suoi alibi atena gli appare sotto mentite spoglie sotto le spoglie di mentore quindi poi la parola che è diventata in italiano la parola guida per dire chi è una guida in questo gli dice telemaco smettila con questi modi da bambino e ora che tu diventi adulto e questo che cosa significa per telemaco significa vai a cercare tuo padre se tuo padre non torna abbi il coraggio di andarlo a cercare perché così magari scoprirai che tuo padre non potrà più tornare perché tuo padre è morto e allora toccherà a te diventare tuo padre oppure scoprirai che tuo padre non riesce a tornare e sarai tu a doverlo aiutare e allora telemaco cambia totalmente prospettiva deve procurarsi una nave deve mettersi per mare nell'odissea elisa mettersi per mare vuol dire affrontare la morte soprattutto se lo si sta dicendo a un ragazzo di 15 16 anni che è l'età che avete voi il poema epico più bello della letteratura occidentale l'odissea inizia con l'avventura di un ragazzo della vostra età che deve combattere da lontano decidere per cosa vale la pena combattere per cosa vale la pena combattere non tanto per cercare ulisse quello è l'occasione che la vita gli dà il limite che la vita gli ha dato per fare che cosa per diventare se stesso telemaco era lì che prendeva come alibi per non crescere proprio il fatto che il padre era lontano sono senza padre come faccio a crescere arrivate negli dice vallo a cercare diventa tu tuo padre parto risciti va incontro alla vita rischiando la pelle e sai che cosa dice la parola greca è bellissima che usa atena dice smettila con quei modi da bambino e la parola greca per dire bambino che atena usa è nepios cioè colui che non ha l'epos non ha la parola non ha l'epica nella vita e noi come l'abbiamo tradotto in latino e poi in italiano infante colui che non parla dal latino for faris vi avranno fatto una testa tanta su sto verbo irregolare avevano dato pure un brutto voto perché non sapevate che era irregolare quello che volete ecco un verbo che vuol dire dire l'infante il bambino il nepios è colui che ancora non prende la parola da solo non sa di avere un nome cioè lo sa perché altri lo dicono ma non sa dirlo lui in prima persona il passaggio infatti è da nepios a colui che invece pronuncia l'epos il suo nome da infante a fante chi è il fante in italiano colui che va alla guerra ma voi non dovete fare nessuna guerra contro nessuno dovete semplicemente accettare che la vita è rischio è in un periodo in cui vi stiamo costringendo a chiudervi nelle vostre stanze deve diventare l'occasione per scoprire che quel limite non è un limite ma è l'inizio di un viaggio non prendete la dad come limite non prendete questa situazione come scusa come alibi perché quel limite è l'occasione per cominciare a esplorare e sta a voi questo perché il quello che c'è da fare di grande nella vostra vita non viene dopo da questo è sbagliata la domanda cosa vuoi fare da grande perché la domanda giusta è cosa vuoi fare di grande e infatti atena dice a telemaco prendi il tuo nome in carico basta fare il bambino basta essere privo di epos privo di epica è il momento in cui tu diventi protagonista anche questo dal greco primo combattente parola che vuol dire primo combattente allora io vi chiedo quanta epica c'è nella vostra vita siete ancora infanti o siete già entrati nella dimensione dei fanti coloro che combattono per qualcosa per cosa combattendo per cosa state vivendo per chi i vostri obiettivi che prospettiva hanno vi siete messi in cerca di una nave di una compagnia di amici per affrontare il mare che significa rischiare la morte e telemaco in quel viaggio lì diventa il nuovo telemaco e colui insieme al quale il padre riconquisterà a itaca quando finalmente ulisse torna itaca con chi la riconquista con suo figlio telemaco colui che ha combattuto da lontano adesso combatte da vicino perché perché ha fatto prima quello che doveva fare lui non sarebbe stato pronto ed è così in ogni grande avventura narrativa i promessi sposi che tanto tormentano i ragazzi di secondo anno sono un romanzo epico uno dice epico un romanzo palloso come i promessi sposi una cosa è l'odissea c'è la guerra c'è il sangue c'è l'avventura figurati lì c'è lucia che piange costantemente renzo che un pirla che si perde continuamente ma dov'è l'epica ma è proprio in questo che sono due bambini all'inizio due bambini che devono imparare ad amare se quei due si fossero messi insieme subito ma duravano un mese lucia è lì sempre che chiede agli altri che cosa bisogna fare renzo è uno che non ne azzecca una non ne azzecca e allora viva don rodrigo il personaggio che amo di più nei promessi sposi perché talmente stupido che fa crescere questi due è il limite nella sua stupidità che costringe questi due a diventare un uomo una donna che finalmente sapranno amarsi e tutto il mondo ruoterà attorno a questa vicenda questa epica e allora chiudo perché alcuni dei miei personaggi elisa si chiamano elena chi lettere un po perché è la mia storia il liceo classico lo studio delle lettere antiche all'università il dottorato di ricerca in letteratura greca l'odissea il mio libro preferito quello colletto di più eccetera 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 ma perché credo che ci sia una sostanza della vita che è epica e oggi oggi quello a cui noi abbiamo rinunciato e vi stiamo costringendo a rinunciare è la dimensione epica della vita cioè qual è quel qualcosa di grande che tu hai da fare che è contenuto nel tuo nome che significa aprirsi alla vita in modo che la vita ti risponda se noi non ci apriamo a questo rischio la vita sarà una noia mortale perché perché non vivremo immaginatevi telemaco che ancora lì a lamentarsi e dov'è mio padre e mia madre non c'è e che faccio e quando torna no tutti quei limiti che prendiamo come alibi per non rischiare allora il motivo dei nomi viene da questo che i miei personaggi sono ragazzi che non sanno di essere protagonisti primi combattenti di una grande poema epico e comincia invece ad affrontare quest'epica proprio grazie al fatto che c'è qualcuno che come atena sotto mentite spoglie mentore omero romeo va lì e dice basta basta fare il bambino è venuto il momento di rischiare la vita un giorno professore io oggi mi vorrei presentare con il mio biglietto da visita con quella parola che non è solo un insieme di lettere ma di emozioni di esperienze e di storie da raccontare infatti caparvietà determinazione e solarità mi fanno essere costanta penso che senza tutti questi tratti che sono distintivi nel mio carattere non potrei essere io non potrei essere presente all'appello con la testa e con il cuore e ora passo la parola a martina fedele dell'istituto di cultura e lingue delle marcelline di foggia via la classe quinto ginnasio del mare ausilatrice di roma buongiorno professore sono martina fedele dell'istituto di cultura e lingue marcelline di foggia e oggi le volevo chiedere assieme alla mia classe qual è stato il suo personaggio preferito e quello più difficile da descrivere sì grazie per questa bella domanda costanza che piglio mamma mia è io spero che tu creda veramente in quello che hai detto perché se ci credi sei molto avanti spero che sia veramente una scena autentica quella che hai attribuito al tuo al tuo nome e invece martina domanda difficilissima allora quando cominci a creare almeno questo è quello che succede a me poi può valere quello che vale perché esperienza personale altri scrittori avranno altre altre esperienze e come come nascono i personaggi nascono proprio come in qualche maniera se si può fare un paragone come il concepimento di un bambino all'inizio sono semplicemente un un qualche cosa che ti chiede sangue che cosa succede a una donna che scopre di essere incinta che il ciclo della vita si impegna a tessere quella vita si dice ho un ritardo ma che cosa vuol dire vuol dire che c'è qualcuno per cui stai cominciando a vivere c'è un tempo che stai dando a qualcun altro allora con i personaggi succede un po lo stesso a un certo punto tu ti rendi conto che parti della tua vita richiedono sangue e tu non stai dando quel sangue che è loro dovuto che ci sono parti della vita che stai trascurando ci sono aspetti della propria esistenza non autentici che vanno liberati e queste voci a poco a poco ti abitano e cominciano a interrogare la realtà e ritorniamo al discorso che facevamo prima con elisa che la realtà ti si dona nella misura in cui tutti i doni ad essa rischi comincia a interrogare la realtà con le domande di quei personaggi con quella voce che porti dentro e allora dirti qual è il mio personaggio preferito sarebbe come dirti che alcune di quelle voci non sono autentiche e sarebbe come dire a un figlio quando un padre e una madre hanno più figli dice guarda io preferisco quello non posso martina non posso rispondere a questa domanda perché farei un torto agli altri quello che posso dire è che li amo tutti in maniera diversa perché ciascuno ha bisogno di un'attenzione diversa certo ciascuno è un pezzo di me di cui prendermi cura e lo scrivere è stato un modo perché questo è la parola la parola è prendersi cura della vita imprigionata noi siamo stati creati si dice all'inizio del Vangelo di Giovanni nel verbo e per il verbo cioè per la parola nella parola e per la parola cioè in qualche maniera la nostra vita parte da una parola il nome che ci hanno dato ed è tutta mirata a dare parola a quello che dobbiamo diventare fino a che quelle dimensioni della nostra esistenza non trovano parola noi non ci stiamo prendendo cura di noi stessi solo che trovare le parole giuste per dire certe cose non è facile allora martina se io ti dovessi dire quali sono i miei preferiti te li dovrei dire tutti e dieci e quei nomi sono dieci nomi che io mi porto dentro e che dovevo mettere insieme da dove vengono questi dieci nomi perché questi dieci personaggi perché queste dieci vicende perché hanno ciascuno se voi avete visto il video della film teatrale che abbiamo fatto sull'appello avrete visto che quando i ragazzi della scuola di teatro mettono in scena io poi racconto che ognuno di quei personaggi ha un pezzettino di una vita di un alunno che io ho incontrato ecco ed è quello che succede proprio nel generare qualcuno quel pezzettino di vita ferita che io riconosco in un alunno e uso il verbo riconoscere apposta e viene dal fatto che io riconosco cioè conosco di nuovo me stesso attraverso quella ferita di quell'alunno cioè nei dieci personaggi c'è un pezzettino di me che entra in risonanza perché io sono entrato in risonanza con una ferita con un limite con una vergogna con una paura di qualche mio alunno in ognuno di loro dieci c'è un aspetto di me di cui io mi sono riappropriato e me ne sono riappropriato prima ancora che scrivendo che è il compimento di questo viaggio stando con quegli alunni che bello stare con voi per questo è bello per questo perché tu amando una persona che ha una ferita ti stai prendendo cura della tua ferita perché siamo tutti dentro una vita che è ferita e se ci diamo una mano a scoprire che il fatto di essere feriti feriti non vuol dire che facciamo schifo vuol dire che nasciamo dentro dei limiti che le nostre vite sono fragili che ci sono degli aspetti della nostra esistenza che avremmo voluto non ci fossero ci sono punto è andata così allora il prendersi cura di quell'alunno l'entrare nella vicenda umana di quell'alunno il farsene carico è in qualche maniera insieme guarire perché quello che conta martina io penso che tu lo abbia già sperimentato nella tua vita quanti anni hai tu martina tredici e mezzo tredici e mezzo ecco quindi ce ne hai abbastanza già di sofferenze alle spalle che quello che che ci fa paura non è tanto soffrire perché quello è garanzia che stiamo vivendo ma quello che ci fa paura essere soli mentre soffriamo che nessuno capisca la nostra sofferenza che nessuno capisca che quello che stiamo provando è importante la solitudine ci ammazza e allora quei dieci personaggi sono dieci pezzettini di vite che mi si sono attaccati addosso che sono diventate poi voci e si sono compiuti in questa narrazione se io poi ti dovessi dire quelli per cui ho un debole e uso la parola non a caso perché vuol dire che quello è il mio debole pensate che bella questa espressione italiana avere un debole per qualcuno che vuol dire in italiano vuol dire che quella persona ti piace ma lo usiamo in termini di debolezza cioè riconosciamo nell'altro una ferita che noi abbiamo la se ti dovessi dire per chi io ho un debole sono mattia e caterina mattia perché quel ragazzo che io ero a 15 16 anni che cominciava già allora a credere come uno scemo nella letteratura a pensare che la poesia fosse una cosa che appunto avrebbe salvato la mia vita credevo nei libri li leggevo avevo concepito l'idea a 16 17 anni che nella mia vita avrei fatto l'insegnante e quando lo diceva i miei amici mi dicevano sarai un morto di fame cioè il mio grande sogno quello che di grandi voleva fare volevo fare era interpretato dagli altri come sarai un morto di fame pensate che bello avere attorno amici che ti vogliono bene allora mattia è questo 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 fuoco per la parola per credere nella parola come luogo che protegge l'uomo e lo innalza verso una dimensione più piena di se stesso se avete visto lo spettacolo teatrale vi sarete resi conto come l'attore che che fa mattia a un certo punto improvvisato questa camminata sui sedili cioè lui ha sentito il bisogno perché quel teatro che noi li facciamo insieme a gabriele vacis è un teatro improvvisato loro sanno la parte ma poi quello che mettono in scena lo decidono sul momento e lui ha cominciato a salire su le poltrone perché perché mattia è uno che come l'albatros di baudelaire ha queste ali grandi e sale sopra e quindi è solo fa una cosa strana non si sale sulle poltrone non si sale sulle poltrone ma lui è lì che va in alto perché vuole afferrare la vita vuole vedere da più in alto e che cosa fanno tutti gli altri della classe teatrale non so se l'avete notato nella messa in scena gli si fanno attorno come rete protettiva perché lui non cada questa è la magia del teatro ragazzi lui mette in scena quel nome uno che si innalza un po di più che fa una cosa strana che rompe le regole sale sulle poltrone e gli altri che non è che dicono ma che sta facendo è impazzito ma lo proteggono proteggono il suo desiderio proteggono la sua battaglia non fanno come quei marinai che prendono in giro l'albatros quando ritorna sulla nave ed è goffo nel camminare perché ha le ali troppo grandi quante volte vi siete sentiti goffi perché avete le ali troppo grandi e gli altri vi hanno preso in giro proprio in ciò che avevate di più grande e allora avete avuto paura di aprire di nuovo quelle ali se io avessi ascoltato chi mi diceva smettila di avere questo sogno di fare l'insegnante sarai un morto di fame segui la strada di tuo padre un dentista è già lo studio aperto si realista io non sarei oggi a fare questa chiacchierata con voi state attenti a quelli che tarpano le ali del desiderio che cosa dice la canzone che ha vinto una recente competizione musicale buoni e zitti buoni e zitti e l'urlo di quel rock epico perché un rock che finalmente un po ci risveglia in un panorama musicale in cui il rock non esiste più o quasi a meno che non trovai a cercare negli anni 70 80 devi andare indietro che cosa dice che tu sei fuori di testa perché sei diverso da loro cioè loro che cosa gridano che per essere unici bisogna urlare di essere diversi cioè noi siamo in un tempo in cui dobbiamo dire inneggiare alla diversità pur di riaffermare l'unicità ma non possiamo partire direttamente dall'unicità perché un viaggio più lungo dire che sei diverso di che sei unico che fai prima ma siccome abbiamo troppa paura dobbiamo impugnare la logica della diversità che per carità è l'altra faccia della medaglia in un mondo che ti dice invece di stare zitto e buono buono e zitto obbedisci buone zitto noi siamo in un'epoca in cui stiamo obbedendo a tantissime regole un po per necessità però attenti ho visto tanti alunni in questo periodo spegnersi e dire tutto sommato questa vita nella mia stanza senza rischiare mi sta bene ecco ma chi è questo è chi non accetta chi non accetta che la vita non abbia un oltre non si limita lui lo dice a sopravvivere io dico è uno che vuole sopravvivere vivere sopra non sopravvivere ma sopra vivere sopra trattino vivere l'altra che amo particolarmente per cui un debole è caterina per questa sua autenticità forza volte antipatica provocatoria che un tratto che io mi ritrovo e per questa sua inesausta ricerca di dio mi raccomando ragazzi non estirpate dal vostro cuore la domanda su dio è la domanda più importante della vostra esistenza io l'ho capito dopo tanti anni dio è il primo garante della grandezza dell'uomo del suo desiderio mi raccomando non confondete dio con il catechismo quella è la spiegazione di alcune cose che dio ha detto e siccome non le capiamo cerchiamo di fare dei discorsi ma attenti la domanda su dio è la domanda sul senso della mia esistenza cioè c'è qualcuno che è garante del mio nome per cui io resto e sono sempre unico unico nella storia umana dovreste sapere dovete sapere che la nel prologo del del vangelo di giovanni e quando si dice che nel verbo sono state create tutte le cose la parola che viene utilizzata e panta tutte le cose ma non è ta panta con l'articolo che è la parola greca che si utilizza per dire l'universo ed è bellissimo questo perché vuol dire che nel vangelo non ci si riferisce alla creazione come qualche cosa di generico l'universo tu sei un pezzettino di una cosa che va avanti che la vita no si usa panta senza l'articolo per dire che tutte le cose sono state create singolarmente nel verbo una per una ecco caterina è quella che difende questo lei parla di dio in una maniera che non è catechistica non è persuasiva non è pallosa e infatti dice che dio è la sua inquietudine è quello che la mette in crisi di più lei interprete di quello che diceva il grande agostino santo agostino e il nostro cuore inquieto fino a che non riposa in chi ha creato quell'inquietudine l'inquietudine dell'infinito quindi qualche maniera mattia e caterina sono due versanti della stessa inquietudine non rinunciare a quell'inquietudine e ciò per cui io un particolare debole quindi grazie della della domanda martina perché mi ha fatto riflettere su una cosa su cui fino adesso non avevo riflettuto buongiorno al professor d'avenia sono famiglia di blasi questo è il mio nome frequento il quinto ginnasio alla scuola mario siriatrice e sono qui oggi per porre una domanda da parte della mia scuola la domanda è la seguente il finale del libro è un finale molto triste credo però che la morte del professore sia un finale necessario come spesso accade nei libri e nei film per quale motivo lei ha ritenuto che omero il professore dovesse morire ok bellissima domanda allora flaminia ti racconto un episodio che è relativo al mio primo romanzo nel primo romanzo bianca come latte rossa come il sangue c'è una vicenda in cui appunto questa ragazza di nome beatrice purtroppo purtroppo muore spoiler se non avete letto il libro ve l'ho rovinato mi dispiace che cosa mi è successo durante una presentazione che è venuta c'era una mamma con i suoi due bambini che si era portata dietro insomma perché evidentemente così la far loro fare una passeggiata e si avvicina questa bambina di dieci anni che aveva ascoltato tutto il discorso e mi chiede alessandro io mi chiamo beatrice ma tu perché l'hai fatta morire beatrice allora io quando ricevo questa è una delle domande più potenti che io abbia ricevuto in vita mia e sono rimasto senza parole perché cosa dice un bambino della morte e soprattutto quando tu sei stato l'autore di quella morte almeno dal punto di vista narrativo e ci capiamo no flaminia ecco riflettendo sempre su questa domanda e adesso tu mi riproponi di fatto la stessa domanda di quella bambina ci stiamo interrogando su che cosa significa vivere attenti perché noi oggi viviamo in un mondo che vive per non morire vive per non morire sostanzialmente la morte una paura terribile e infatti i due esiti possibili sono quelle di allontanarla del tutto dalla nostra esistenza come se non esistesse l'ossessione della sicurezza ormai siamo non più all'uomo omini lupus ma all'uomo omini virus c'è l'uomo e virus per l'altro uomo è pericolo di contagio rifletteteci su questa cosa riappropriate via poco a poco quando sarà possibile di quei contatti perché gli altri non sono un virus gli altri sono il luogo in cui noi ci riconosciamo ulisse non può tornare a itaca fino a che penelope non lo riconosce lui ha già sterminato tutti ha già vinto è già lì al centro del palazzo penelope non gli accorda la sua identità non può tornare noi ritorniamo a casa abbiamo itaca solo nel momento in cui qualcuno ci riconosce e per essere riconosciuti bisogna che ci sia quella intimità che penelope mette alla prova ma questa è un'altra storia allora la morte invece che cos'è intanto è una parte essenziale della vita perché è proprio quel limite di cui parlavamo all'inizio con elisa è quel limite che definisce la vita un poeta francese dice la morte chiama le cose alla vita attenzione qui è la sfida ragazzi voi morirete tante volte al giorno perché c'è il dolore c'è la sofferenza c'è la paura c'è la vergogna sono tutte anticipazioni della morte e noi ci dobbiamo allenare a entrare in queste cose perché come chi fa esercizi in palestra poi è pronto per la gara quando è che si smette di avere paura della morte quando la si vive come fonte di vita ciò che mette alla prova ciò che veramente vale io dico una cosa che sempre scandalizza e porta i miei alunni o le persone che ho attorno a fare gesti apotropaici a toccare ferro altre parti così dell'esistenza umana dico ma se io morissi oggi se io morissi oggi oggi dopo questo incontro sono in bicicletta e me beccano e muoio qual è la mia eredità qual è la mia eredità per cosa ho vissuto il valore della mia vita lo dà la morte in che senso che ciò che cristallizza ciò che io ho desiderato quando voi studierete dante vi sembrerà di fare un viaggio all'inferno in purgatorio in paradiso ma state attenti perché dante non si è mosso dante quello che racconta e siamo nell'anno dei suoi settecento dante quello che racconta è che le persone nell'aldilà sono semplicemente cristallizzate in ciò che hanno desiderato nell'aldiquà noi diventiamo nella vita di qua e poi nella vita di quello che desideriamo hai desiderato dio diventi dio hai desiderato distruggere diventi distruzione che cosa scegliete voi se se io dovessi morire oggi scoprirei che cosa ho scelto scoprirei per cosa ho vissuto quindi attenta la minia omero romeo non muore omero romeo risorge quindi tecnicamente da un punto di vista narrativo lui muore certo che muore ma che cosa succede nell'epilogo che i ragazzi ricevono una lettera da omero romeo omero romeo non è morto quindi non solo ricevono una lettera da lui che è pienamente vivo perché è vivo in loro ma le loro vite sono l'esito di quell'incontro lui non è morto anzi si è moltiplicato per dieci leggete quei brevi resoconti di chi sono diventati quegli uomini e quelle donne di quella classe scalcinata di anni prima e dimmi flaminia se omero romeo è morto omero romeo non è morto perché noi non moriamo noi diventiamo ciò che abbiamo desiderato e omero romeo uno che ha vissuto per quei ragazzi certo poi c'è la morte e omero romeo è sfigato perché non solo è diventato cieco ma si è beccato pure un tumore ed è morto di questo ma purtroppo la vita è così flaminia nella vita ci sono queste cose ma il punto non è quello il punto è come ci sei stata dentro quelle cose se le hai trasformate in altra vita e quelle garanzie di felicità allora io posso dirti che omero romeo tecnicamente narrativamente come succede su questa terra muore ma in realtà non è morto qual è l'ultima frase del romanzo vi aspetto sulla spiaggia vi aspetto sulla spiaggia vi vengo a prendere continuiamo la nostra conversazione cosa ha desiderato omero romeo il bene dei suoi alunni e quel bene non gli sarà più tolto questo è l'aldilà questa è la vita eterna una cosa che comincia di qua ricordatevelo bene all'inferno in paradiso in purgatorio non ci si va ci si è è la continuità di quello che tu desideri fermatevi adesso e fatevi questa domanda che cosa c'è stato di buono nella mia vita fino ad adesso cominciate a pensare a ricordare e scoprirete che cos'è il paradiso il paradiso è quella risposta di ciò che di buono c'è stato nella vostra vita attenti perché dentro quel di buono scoprirete che ci sono anche momenti di sofferenza scoprirete che ci sono momenti di dolore perché magari eravate in ginocchio tra le lacrime di una cosa che non sapevate affrontare e qualcuno vi è stato accanto e quello per voi è un momento buono quindi attenti attenti alla versione catechistica di inferno purgatorio e paradiso cosa c'è di buono e se non trovi qualcosa di buono forza mettersi a cercarla se trovi solo qualcosa di male da ricordare non ti preoccupare quel male anche quel male è strada per aprirsi a qualcosa di buono perché quel limite che tu hai incontrato che fa parte della tua vita è una risorsa sempre allora per chiudere sulla tua domanda io non avevo previsto flaminia che omero romeo morisse quando sono arrivato alla fine del romanzo mi sono reso conto che doveva morire ma tecnicamente narrativamente perché fosse più evidente che lui continuava a vivere sarebbe stato più debole un numero romeo che era ancora vivo e si faceva il bell'incontro con i suoi alunni dicendo a come siamo stati bravi eccoci qua facciamoci la festa ma no è un modo di dire ancora più potente è un modo di dire la festa continua la festa continua la festa continua quindi non è morto grazie flaminia buongiorno a tutti io mi chiamo Matteo Amata e questo posto che vediamo ci invita a riflettere sul concetto di appello e sulla sua importanza ogni giorno noi quando ci definiamo presenti in qualche modo è come se prendessimo coscienza del nostro dovere non solo come studenti ma soprattutto come individui che ogni giorno si svegliano e lasciano il loro luogo sicuro per immergersi nell'imprevedibilità della vita e mai come adesso questa in questa conferma del nostro esserci è stata più coraggiosa in un momento in cui siamo circondati dal pericolo ma non riconosciamo la sua posizione quindi quello che volevo dire appunto è che per essere presenti secondo me ci vuole coraggio e per questo voglio dare la parola all'istituto San Giuseppe Calasanzio di Salluri con Laura Perreca buongiorno a tutti buongiorno professore sono Laura Perreca dell'istituto San Giuseppe Calasanzio di Salluri in Sardegna quindi noi vorremmo parle questa domanda il suo romanzo è ambientato in uno scenario di normalità ma è stato pubblicato durante la pandemia come si sarebbe comportato il professor Romero durante la didattica a distanza secondo lei ha proprio ugualmente svolto l'appello grazie allora intanto due nomi due nomi importantissimi Matteo Matteo nome ebraico che vuol dire dono di Dio mamma mia Matteo grandi grandi impegni nella tua vita a sostenere questo peso di essere un dono di Dio per il mondo e Laura Laura vabbè nome nome consacrato dall'alloro dalla gloria dall'amore di Petrarca insomma mi raccomando anche tu devi fare cose grandissime bellissime Laura con questo con questo nome Matteo scusa tu da dove da dove comunichi da 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 che città sei io sono di Roma di Roma ok quindi abbiamo un ponte tra Roma Milano e Sardegna bellissimo bellissimo veramente questo grazie di questo incontro che mi commuove proprio per questo fatto che da avere una classe così che che unifica un'Italia che è tutt'altro che unita in questo momento no anche perché Laura sta in zona bianca è lì che può così siete più sereni voi sardi Roma mezzo Milano un disastro vabbè comunque noi attraversiamo le zone grazie a questa chiacchierata e creiamo un'unica zona un'unica zona che è quella delle relazioni umane una zona libera allora intanto Matteo tu hai detto una cosa molto molto bella che per vivere ci vuole coraggio ci vuole coraggio allora questa cosa è una verità che guarda che è tostissima ammetterla perché vuol dire non avere più alibi la parola coraggio viene da cuore è un termine che è nato nell'italiano appunto dei primi secoli proprio da per mediazione francese perché quando si aggiunge quel quel suffisso age a qualche cosa è appunto per dire che qualcosa ha uno spazio no quindi il coraggio è diciamo l'effetto di quello spazio di abitare nel cuore e io sono sempre più convinto di questa cosa cioè che noi in fondo non ci godiamo la vita perché abbiamo paura abbiamo paura di sbagliare abbiamo paura di essere sbagliati sono le due cose che succedono ad Adamo dopo il peccato originale cosa fa si nasconde pensando di dove essere punito come un bambino che ha fatto una monelleria e si vergogna quindi paura e vergogna sono i due elementi che imprigionano la vita infatti la domanda che dio fa ad Adamo è dove sei dove sei noi gli chiede che cosa hai fatto non è un padre che sta lì a dirti ecco te l'avevo detto dire c'è dove sei cioè hai un padre perché ti stai nascondendo alla quel dove sei ea che punto sei della tua vita della tua risposta alla vita e avere il coraggio di uscire dal bosco in cui si è nascosto Adamo e dire sono qui ho fatto questa cavolata e cominciare a vivere e scoprire che quel limite quel male che ti porti dentro quella fatica quella sofferenza quella caduta quel fallimento sono la prima cosa che definisce la tua unicità definisce la tua libertà è quello che io dico essere appunto la differenza fra destino e destinazione il destino è ciò che ci è capitato senza che noi ce lo siamo scelti e la destinazione ciò che io decido di farci con quello che mi è capitato il coraggio è esattamente quell'elemento che rende un destino destinazione occhio perché ci sono persone che vivono tutta la vita prigionieri del loro destino a volte perché lo sono come alibi e mi è successa questa cosa nel passato non me ne libererò mai sono lì a lamentarsi tutto il tempo ok è vero è successo che ci fai io mi ricordo la frase bellissima di un filosofo che dice non è importante essere tristi quello che è importante cosa ci fai con la tristezza noi viviamo Matteo purtroppo in un mondo che ha sterilizzato tutti i sentimenti negativi perché ne ha paura perché bisogna essere perfetti bisogna essere sempre prestanti sempre sorridenti sempre i migliori poi uno si chiude in camera e c'ha le lacrime c'è il cuore morto si sente solo è questa esperienza di tutti gli uomini di me a 40 anni e di voi a 17 18 15 quanti quanti ne avete allora il il discorso è almeno mi sembra sia proprio questo trovare quel coraggio cioè quello che abita nel cuore che trasforma il destino in una destinazione che ci faccio io con questo limite che ci faccio io con questa tristezza i sentimenti negativi segnalano un punto ferito della vita che vuole guarire quando tu hai freddo che cosa fai Matteo ti copri cioè il freddo che senti è un elemento negativo che ti salva dal morire di freddo se noi sterilizziamo eliminiamo gli aspetti negativi della vita noi moriamo perché non abbiamo più sintomi del fatto che la vita è ferita e siccome siamo esistenze in crescita che devono nascere una seconda volta diventare se stessi è normale che ci siano dei dolori sono i dolori del parto sono i dolori di una nuova creatura che nasce e questo è il coraggio cara laura per rispondere a te e alla tua classe il romanzo è stato concepito tanti anni fa quando la pandemia era una cosa che neanche si poteva immaginare cioè forse nei romanzi di fantascienza e nei deliri dei dittatori che sapevano che avrebbero dominato il mondo attraverso questi strumenti Hitler l'aveva detto chiaro che la fase successiva del dominio del mondo sarebbe passata dall'uso dei batteri e quindi che cosa che cosa viene da dire che in qualche maniera ancora una volta la la letteratura la scrittura è qualche cosa che libera zone della vita che poi vengono messe a nudo dalla vita stessa cioè cosa sta succedendo con la pandemia laura che sta venendo fuori in totale evidenza che cosa è essenziale cosa no per la nostra vita ragazzi che vogliono tornare a scuola allora siamo sicuri che la scuola era quello schifo che sempre ci siamo raccontati ma che cosa vogliono perché vogliono tornare perché vogliono quella scuola come era prima no perché vogliono la relazione perché l'essenziale della scuola è la relazione con i propri maestri con i propri compagni lì dove c'è relazione la scuola è aperta la dad non ha chiuso le scuole molte scuole erano già chiuse perché dove non c'è relazione fra maestro e discepolo la scuola è chiusa perché noi insegnanti non mettiamo le nostre lezioni su youtube voi ve le ascoltate tranquillamente poi venite a fare la verifica l'interrogazione con comodo perché la scuola non è già quella della dad da anni perché siamo convinti di un fatto che crescere comporta relazione perché non si cresce da soli non ci si fa da soli non ci si afferma da soli liberatevi da questo messaggio folle della cultura contemporanea che tu sei il leader di te stesso è una balla liberatevi dall'altra grande balla diventa ciò che vuoi una balla che distrugge le persone perché siccome nessuno di noi può diventare ciò che vuole poi che cosa fa imita chi c'è riuscito e quindi si uniforma si mette l'uniforme che è garanzia di successo ma la felicità non è nel successo è proprio il contrario io ho successo perché sono felice mentre oggi si pensa che sarò felice quando avrò successo e inseguirete tutta la vita il successo e non sarete mai felici perché c'è qualche cosa di grande da fare già adesso che voi avete già dentro pensateci ragazzi abbiamo trasformato noi adulti la parola lavoro parola meravigliosa che indica dal latino la trasformazione faticosa del mondo in un giardino in qualche cosa che ha delle premesse ma va trasformato in carriera carriera noi vi parliamo di carriera cioè qualche cosa in cui bisogna cominciare a correre andare veloci affermarsi sgomitare terribile terribile e voi infatti addosso che cosa avete a 15 16 17 anni una cosa che io non ho avuto perché sono cresciuto in un'adolescenza diversa non che fosse un mondo migliore era semplicemente un mondo diverso in cui queste cose non erano ancora così esplose avete l'ansia costante una caratteristica degli adolescenti contemporanei è l'ansia avere l'ansia e l'ansia sapete che cos'è è una forma di paura che imprigiona perché mentre la paura è paura di qualche cosa che io conosco dice c'è il leone nella foresta e io ne ho paura e prendo le contromisure l'ansia angoscia che cos'è è paura di niente cioè è la paura senza oggetto perché perché nessuno vi ha detto di che cosa dobbiamo cercare vi stanno semplicemente dicendo attento la vita è una corsa comincia a correre che tu sia gazzella o leone devi cominciare a correre ma scusate gli uomini sono uomini non sono né gazzelle né leoni sono un'altra cosa sono portatori autentici di desiderio di un'unicità da realizzare allora in dad che cosa è venuto fuori laura proprio questo che l'essenza della scuola è proteggere il desiderio delle persone e questo avviene all'interno di una relazione generativa quando le relazioni sono generative che cosa fanno generano le persone cioè le fanno diventare ciò che le persone possono diventare non diventa ciò che vuoi che è impossibile ma diventa ciò che sei che è possibile anzi è la garanzia della felicità leopardi diceva la felicità non è che il compimento c'è scritto un libro intero su che cosa pensava leopardi della felicità e lo intitolato l'arte di essere fragili non a caso perché leopardi aveva chiarissimo che la felicità è assenza di è la lotta per un compimento non è una carriera è qualche cosa di cui percepiamo la mancanza e che ci mette in moto verso il suo compimento i latini quando dicevano la parola felice la utilizzavano per dire un albero che porta frutto la parola felice in latino non vuol dire uno che allegro non vuol dire uno che ha avuto successo la mettevano accanto alla parola al albero arbor felix albero felice vuol dire l'albero che dà frutto chi è felice chi dà frutto chi è fecondo e porta frutto nella misura in cui è fatto per portare quel frutto quindi non diventa ciò che vuoi diventa ciò che sei la linfa della vita già scorre dentro di te è importante trovare qualcuno che veda già il frutto nel seme e a questo proposito laura ti racconto due episodi della mia vita che sintetizzano un po questo e che rispondono alla tua domanda omero romeo avrebbe avrebbe cosa avrebbe fatto ma omero romeo stava già facendo la dad laura nel momento in cui tu sei cieco che cosa ti rimane dell'altro per entrare in contatto con lui la voce e il volto che cosa fa lui nell'appello ascolta le storie dei ragazzi e mette le mani sul loro volto alla fine di ogni appello dimmi tu se non è questa la dad allora noi in che maniera entriamo in contatto con la vostra voce con il vostro volto lì è il punto voce e volto e io ho avuto un insegnante di lettere che è quello per cui io sono diventato insegnante se lo volete andare a cercare vedere che tutto quello che vi sto dicendo è vero andate su instagram cercate mario franchina ha fatto 80 anni tre settimane fa io ho messo un post qualche appunto qualche giorno fa per per festeggiarlo lui ha messo ha aperto questo profilo instagram in cui continua a fare quello che faceva con noi negli anni 90 a 80 anni questo ha un profilo instagram in cui ti spiega le poesie ti parla di dante ti fa lezione con quello stesso slancio allora è da chiedersi ma quest'uomo è invecchiato no quest'uomo è maturato continua a dare frutto è un uomo felice è imbranato con con gli strumenti digitali ma chi se ne frega ha superato quell'imbranamento e sta lì su instagram a 80 anni perché perché vuole fare il bambino l'adolescente di ritorno no perché quella è la sua vocazione è il faro guida la stella guida della sua vita parlare raccontare gli altri ciò che ama e ve lo dico te lo racconto con questi piccoli episodi il sabato ogni tanto lui ci faceva ascoltare la musica non la musica pop magari stavamo studiando il romanticismo ci faceva conoscere una sinfonia di betoven perché voleva farci capire che la musica è la scorciatoia attraverso cui si capisce la ricerca che l'uomo fa in un periodo storico e come si libera dalle strettoie di quel periodo storico per andare oltre e io mi ricordo questi sabati mattina in cui ascoltavamo in classe betoven quando diceva oggi ascoltiamo betoven chiaramente la reazione quella tipica di qualsiasi ragazzo di 17 anni che palle cioè la musica classica uguale palla noia ecco ringrazio alcuni ragazzi della di una terza media non mi ricordo quale che mi hanno scritto un grande sincerità che il romanzo in alcune parti è noioso lo so ragazzi abbiate pazienza la vita è fatta anche di questo bisogna starci e la noia è il luogo in cui nascono le cose migliori perché quando ti annoi sentimento negativo di cui abbiamo una gran paura che entri in contatto con te stesso perché quando ti annoi vuol dire che non stai creando niente e allora ci vuole anche il tempo della noia voi che siete chiusi nelle vostre camere e vi annoiate annoiatevi ma annoiatevi fino in fondo che la noia vi porti fuori dalla noia per dire bene allora cosa creo chiaramente non mettetevi a costruire bombe o cose pericolose ma cominciate a cucinare imparate a cucinare imparate a suonare uno strumento imparate una lingua nuova ormai le possibilità che ci sono con internet sono straordinarie esplorate il mondo è vero che è una navigazione quella su internet e cacchio navigate telemaco da lontano comincia a navigare entra in quel mare certo mare in cui ti perdi in cui puoi stare lì a perdere il tempo e a far niente certo può anche succedere questo devi avere un obiettivo annoiatevi ma annoiatevi bene allora la musica e ci faceva ascoltare la musica io non mi ricordo le spiegazioni sul romanticismo del mio insegnante mi ricordo beethoven il sabato mattina in classe un'ora di libertà che mi faceva capire che cosa beethoven resta lì beethoven resta lì quella bellezza ormai non la può distruggere più nessuno mentre tutto il resto è passeggero beethoven resta lì questo mi ha insegnato che le cose che ti migliorano la vita restano lì io dico sempre che ho imparato da lui che in classe bisogna portare i propri amori e non i propri umori certo era un'ora dell'ultimo anno sottratta al programma dice no c'è il programma da fare dobbiamo andare in fretta calma calma non c'è nessuna fretta non c'è nessuna carriera non c'è nessun programma ci sono le vite serve più un bell'ascolto guidato di una sinfonia di beethoven che l'ossessione l'ansia di fare tanto programma perché a noi quello che interessa è diventare uomini e donne profondi perché diciamo che una persona è superficiale o è profonda perché o vive alla periferia di se stesso ed è superficiale o vive in profondità e noi che amici vogliamo quelli superficiali o quelli profondi cioè quelli che ci sanno ascoltare o quelli che si voltano dall'altra parte neanche si rendono conto allora il tema è quello calma calma andiamo alle cose essenziali lui un giorno mi chiamò e mi disse alessandro vieni qua quando un professore ti chiama tu per tu in genere ti devi preoccupare e invece mi disse ti ho portato il mio libro di poesia preferito te lo presto me lo devi restituire fra due settimane era un libro di poesia difficilissimo io non ho capito niente di quelle poesie di quel poeta tedesco ma io so che in quelle due settimane sono diventato insegnante perché perché un uomo mi diceva io vedo in te già il frutto quando io guardandomi allo specchio vedevo solo un semino ridicolo e di cui avevo vergogna l'adolescente chi è è colui che sta davanti allo specchio e dice faccio schifo io con questa faccia non posso uscire là fuori sono sbagliato non sono abbastanza dovete benedire il vostro specchio perché il momento in cui vi mettete di fronte al vostro limite il bambino di fronte allo specchio che cosa fa si mette a giocare col nuovo amichetto cioè pensa di avere di fronte un altro un altro così come fanno i cani e gatti l'adolescente che cosa fa dice questo sono io è quella voce che dice questo solo io può dirlo perché è di più di quello che c'è su quello specchio il che vuol dire che il limite che tu vedi su quello specchio è di meno di quella voce e questo è grandioso vuol dire che noi siamo di più di quello che pensiamo siamo di più di quello che sentiamo questo è il punto quell'insegnante mi faceva vedere in anticipo la mia storia fatto un a tena con telemaco basta fare il bambino beccati sto malloppo di poesie e io non le capivo e proprio perché non le capivo capivo che ero fatto per qualche cosa che ancora dovevo raggiungere e quindi quel professore ha liberato il mio desiderio ha detto in seguito io vedo già il frutto la felicità vi dicevo l'albero felice nel seme vi auguro di incontrare professori così insegnanti così perché poi la vostra vita sarà solo un debito di gratitudine in cui vorrete restituire chi ha fatto questo con voi ad altri cercate veli cercate veli io mi ricordo una ragazza che si lamentava del fatto che i suoi insegnanti se ne fregavano altamente di lei e lei si andava a cercare in altre classi un professore durante l'intervallo le raccontava alcune cose di letteratura di cui lei avvertiva il bisogno di capire meglio e questo insegnante si metteva lì nel corridoio a spiegare letteratura a una ragazza di un'altra classe cercatevi i maestri cercatevi quei mentori come si dice nell'odissea che vi mettono in crisi che vi sfidano che vi portano più in alto di dove credete di dover stare quelli che non vi dicono zitti e buoni ma quelli che vi dicono dai procurati una nave vai prendi largo spero di averti risposto laura buongiorno professore io mi chiamo costanza e sono presente sono presente perché ho scelto di esserlo facciamo parte di una società nella quale si vive immersi nel lavoro a rincorrere scadenze impegni e appuntamenti e la nostra mente diventa così diciamo un contenitore di pensieri e preoccupazioni essere presenti significa dare valore tempo dare energia appunto citando l'appello se solo ci prendessimo il tempo di ascoltarle queste vite chissà quante se ne salverebbero presente per me è un momento non è un momento ma un modo di essere e io mi chiedo voi ci siete o non ci siete adesso abbiamo ben pensato con gli altri miei compagni di leggere direttamente nome domande quindi adesso passerò tra un attimo passerò la parola a martina ferrari del liceo delle scienze umane e san giuseppe di vigevano e posso la parola ad alessandro che annuncia le prossime domande un giorno sono martina ferrari della terza scienza umane dell'istituto san giuseppe di vigevano e la mia classe si posta questa domanda omero sostiene che uno dei doni della cecità è che il cellulare è tornato ad essere un telefono e gli occhi sono tornati liberi di indirizzare la loro attenzione a ciò che veramente conta è una critica ai social e al fatto che siamo influenzati più dall'apparire che non dall'essere ok bellissima domanda martina allora siccome io sono come vedete logorroico cioè parlo tanto mi perdo prendo deviazioni ma semplicemente perché quando parlo con qualcuno vedo i vostri volti mi piace stare lì mi piacerebbe interagire pazienza e ci sono tante altre domande intanto vi chiedo scusa se non arriviamo a farle tutte ma adesso prova a rispondere più rapidamente allora martina i social i social sono una cosa molto bella lo dice la parola stessa perché facilitano le relazioni ma noi dobbiamo stare attenti a una cosa che molto spesso nelle relazioni andiamo a elemosinare quello che non abbiamo quindi che succede che usiamo i social per avere un po di amore per essere riconosciuti ma questo che cosa fa siccome questo amore non è duraturo ma è passeggero crea dipendenza perché noi ci manifestiamo più belli sui social di come siamo nella realtà perché noi abbiamo un buco grandissimo dentro di noi che è quello di chi vuole essere riconosciuto nella sua unicità ma questo ce lo può dare solo chi ci ama davvero quindi che meccanismo intelligentissimo hanno i social che intercettano il nostro desiderio profondissimo quello di essere amati ma lo rilanciano continuamente senza mai soddisfarlo anzi approfondendolo perché in fondo nel momento in cui io cerco attenzioni e so che quel averle ricevute dipende da una mia performance ho messo la foto bella ho fatto il video divertente significa che io entro in una produzione anzi in una post produzione uso proprio il termine tipico del cinema e della tv in una post produzione di me stesso cioè io per essere me stesso devo post produrmi pensate ai filtri io per avere un volto mi devo filtrare ora voi dovete stare dentro i social godendovi le potenzialità che hanno che sono questo entrare in contatto rapidamente condividere cose belle con gli altri quante cose ho scoperto grazie a facebook instagram si entra in contatto con parti di mondo che altrimenti ti sfuggirebbero e poi ogni tanto ti fai anche due risate perché ci sono certi video che veramente ti fanno passare la tristezza no e ora al di là di questo il tema che mi interessa è questo i social sono il modo in cui noi abbiamo messo a tema nella cultura contemporanea questo nostro bisogno che è un bisogno dell'uomo di tutti i tempi essere riconosciuto guardate che l'odissea è basata su questo ulisse non torna a itaca fino a che non viene riconosciuto lui torna da che cosa da mendicante com'è che diventa veramente di nuovo ulisse quando viene riconosciuto dai dalle sue relazioni fondamentali argo il cane telemaco il figlio penelope la moglie laerte il padre euriclea la serva fedele eumeo il porcaro e altri servi fedeli a lui chi lo riconosce lo rende ulisse è la stessa cosa solo che i social hanno questo limite che non risolvono il problema e quindi tu lo puoi rilanciare all'infinito e anzi ti tolgono libertà ditemi una cosa dopo aver passato un pomeriggio a scrollare le immagini su instagram che è una ricerca di infinito perché se uno continua a fare così all'infinito è l'infinito che sta cercando voi uscite più felici o più annoiati più pieni o più vuoti qual è la potenza dei social che tu provi delle emozioni che sono simili al vivere ma sono solo emozioni apparenti cioè puoi avere l'emozione del vivere senza vivere lo sapete che il nostro cervello è fatto in un modo per cui si attiva non le stesse aree sia che tu giochi una partita di tennis sia che la guardi in tv i social ci possono dare questo grande miraggio di avere una vita piena piena per accumulo ma la vita non è piena per accumulo è piena per intensità per intensità quanti amici avete come si chiamano sui social gli amici follower uno nella vita se è fortunato di amici ne trova due tre quelli a cui puoi dire qualsiasi cosa che ti amano come un altro se stesso quindi occhio alla fine del tempo dedicato ai social uno può dire ma se avessi dedicato intensamente queste due ore a una persona a cui tengo molto a un impegno di vita a un desiderio che ho a un hobby ne sarei uscito più accresciuto sì la risposta è sì quindi usate lì ma non usate lì come modo di risolvere la vostra identità quindi la mia non è una critica ai social ma è una critica al fatto che noi troppo spesso ci affidiamo ai social per fare una cosa che si fa da un'altra parte che è nella vita vera non che quella non sia vita vera ma non basta non basta l'apparire è un modo di avere come si chiamano i capi che indossiamo abiti dal verbo latino abeo avere nella versione frequentativa del verbo cioè continua ad avere quindi in qualche maniera noi nell'apparire abbiamo un avere viviamo in un mondo in cui per essere bisogna avere quindi per essere bisogna apparire non è strano non è male è normale perché tutti noi vogliamo essere qualcuno ma attenti non basta apparire e avere per essere bisogna lavorare sull'essere che è anche il modo in cui appari ma non è solo il modo in cui appari scegliete voi è una vostra scelta l'uso che volete potete farne avanti in questo tempo in generale professore io vorrei chiedere a tutti i ragazzi che si erano preparati per fare una domanda magari di accendere la webcam e di parlare uno per volta io chiederei magari i ragazzi a partire da quindi magari tanto possano esporre la propria domanda e così poi magari nel tempo che ci rimane le possa anche darci una risposta che magari metta un po insieme gli ultimi interrogativi che avevano quindi io partirei da Alessandro vedo che le domande erano 13 e noi siamo arrivati alla quinta quindi se voi me le fate anche tutte insieme io poi provo a rispondere rapidamente e così abbiamo visto i volti di tutti dite voi fate voi per rispetto grazie professore allora farei parlare subito Giulia Marchetti dall'istituto Ancele della Carità di Pallosolo sull'Olio poi magari i ragazzi voi presentateli man mano che parlate ricordate anche la scuola dove venite così insomma ognuno ha presentato la propria realtà buongiorno io sono Giulia Marchetti e frequento la terza media della scuola Ancele della Carità oggi sono qui per fare una domanda in copertina ci sono dieci fiori associato ogni ragazzo un fiori in particolare grazie allora le facciamo così rispondo subito e facciamo in velocità rap allora bellissima domanda Giulia è un'idea di mia sorella che mi fa le copertine dei miei libri mia sorella è un architetto che fa la fotografa di professione e quando deve fare la copertina del mio libro io le racconto per sommi capi di che parla il libro lei non legge una riga niente fa la sua ricerca autonoma per via di immagini perché ognuno ha il suo talento quindi a me piace che lei faccia la sua ricerca secondo il linguaggio che sa utilizzare che è quello della fotografia così come io faccio la mia ricerca secondo il linguaggio che provo a utilizzare che è quello della parola quindi lei che cosa si è inventata? un'immagine della scuola paradossale la scuola se ci pensi Giulia è un luogo in cui noi mettiamo l'unicità delle essenze dei fiori dentro un vaso ma qual è l'esito dei fiori che mettiamo dentro un vaso? è che le abbiamo tolti dalla realtà le abbiamo messi dentro quel vaso con un'acqua che gli diamo ma sono inevitabilmente destinati a fare che cosa? a morire allora lei invece si è inventata un vaso che è una bomba perché la scuola di cui si parla nel romanzo è una bomba quindi il rispetto dell'unicità come hai detto tu giustissimo ogni fiore è associato a un ragazzo ed è proprio vero è proprio la cosa che ha pensato mia sorella ma con un'esplosione che va verso fuori non che va verso dentro quindi la scuola come luogo in cui io ti do il nutrimento per poi andare nel mondo a portare quella unicità e radicare i tuoi semi, la tua vita anche altrove grazie grazie ora dovremmo sentire Rebecca Romano non so forse non ti sentiamo Rebecca c'è un problema di microfono casomai andiamo avanti Ale con la prossima intanto Rebecca risolve il problema microfono se il petto non dovrebbe essere il ciclo che adesso forse ora sulla Fetan chi c'è Ale scusa mi son perso a questo punto avremmo forse ora sulla Fetan però che non è con noi possiamo anche andare direttamente a a Margherita Trovo ah no eccola vedo perfetto perfetto buongiorno ciao Fosca ecco ti dimmi tutto allora io frequento l'ultimo anno dell'istituto Cavani di Venezia al liceo classico e la mia domanda era molto semplice se lei nella sua carriera di insegnante di professore aveva mai sperimentato un appello simile a quello di Omero che ha fatto Omero nel suo libro e se sì in questo modo ha mai scoperto tratti dei suoi studenti dei suoi alunni che prima non conosceva bellissima domanda Fosca io tutte le mattine dedico almeno dieci minuti a fare l'appello chiaramente non nella maniera in cui lo fa Omero perché una cosa è la letteratura una cosa è la realtà e se io mettessi le mani sul volto di ogni alunno ogni mattina riceverei tante denunce da tante famiglie quindi è chiaro che dovete anche distinguere finzione e chiaramente Omero o Romeo è cieco quindi se lo può permettere ma mi piace dedicare qualche secondo speciale a ogni volto quindi io chiamo il nome e aspetto che la persona mi guardi quello è un momento molto imbarazzante perché lo sai Fosca alle otto del mattino l'ultima cosa che vuoi è che un adulto che è tuo professore ti guardi negli occhi dice ma che vuoi da me? già mi stai rovinando la vita eppure vuoi entrare nella mia vita? allora non si tratta di fare chissà che cosa perché io le vite dei miei alunni le conosco attraverso una serie di appelli che si fanno anche non nel momento dell'appello io periodicamente faccio stilare loro dei questionari attraverso cui conosco aspetti della loro vita che non sono chiaramente farmi fatti loro ma capire dove va il loro desiderio il loro sguardo per esempio io so dei miei alunni qual è la canzone preferita io so dei miei alunni qual è il libro preferito io so dei miei alunni qual è il video preferito il videogioco preferito queste cose le devo sapere perché significa guardare dove guardano loro e non c'è niente del loro mondo che faccia schifo quella è il segreto dell'appello è prendere una posizione nei confronti del mondo per cui tu dici al mondo che è fatto dei volti di quei ragazzi questo mondo è bello quando Dio crea Adamo come primo compito che cosa gli da Fosca? dare i nomi alle cose che nel linguaggio narrativo della Bibbia significa che tu diventi custode di ciò a cui dai il nome e la Bibbia dice che Dio accettava tutti i nomi che Adamo sceglieva allora che significa fare l'appello come lo fa Omero Romeo? dire quel nome dicendo io sono qui impegnato per custodire la bellezza di questa vita anche se questa vita in questo momento a te Fosca può far schifo perché magari ti guardi allo specchio e dici non mi piaccio io ti devo dire dal modo in cui ti guardo che tu mi piaci che la tua vita è una vita bella che è un dono che tu ci sia questo e lo si può fare in mille modi per esempio per me il giorno del compleanno di un ragazzo bisognerebbe fare l'appello cantando tutti insieme tanti auguri a te l'abbiamo fatto l'altro giorno in Dad siamo in Dad è il compleanno di una mia alunna si chiama Flavia che facciamo? la lasciamo a festeggiare il compleanno tristemente dietro a uno schermo? diciamo ragazzi cantiamo tanti auguri a te e ci siamo fatti una gran risata e se lo ricorderà allora sono piccole cose e dire a quell'alunno ma che hai oggi? vedo che hai le occhiaie hai dormito male? ah sì prof se sapesse e in quel se sapesse c'è già un nuovo appello all'intervallo io lo raggiungo e dico succede qualcosa hai bisogno di una mano? non significa farsi i fatti degli alunni fare l'appello come un euro romeo vuol dire dire ci sono se vuoi ci sono se vuoi ci sono quella alunna che ha fatto quella conciatura nuova che ha quel colore che le dona particolarmente allora dici come ti sta bene quel colore? ah oggi ti sei fatta le trecce come mai? è andare nei dettagli perché sono convinto di una cosa vale per gli adolescenti ma vale per tutti che una cosa è sapere di essere amati una cosa è sentire di essere amati l'appello come lo fa omero romeo è un modo di far sentire amati e non solo saperlo quindi sì ti dico sì ma si inventa giorno per giorno in maniera diversa a seconda delle possibilità che ci sono date grazie mille Fosca non tutti reagiscono bene alcuni si ribellano si arrabbiano si difendono ma anche quello fa parte del gioco perché è giusto che voi in alcuni casi diciate a noi adulti sono affari miei me la devo vedere io e io dico bene bene fantastico però sappi che mentre te la vedi tu da sola io ci sono se vuoi io ci sono Rebecca ce l'hai fatta? mi sente? sì benissimo eccoti benissimo allora buongiorno professore mi chiamo Rebecca Romano e frequento la terza media della scuola di secondo grado Vincenza Poloni a Monselice e ci chiedevamo come fosse nata l'idea di un insegnante cieco e se si è fatto aiutare in un qualche modo da persone non vedenti per dar voce ai sentimenti e alle emozioni del professore stesso bellissima domanda Rebecca allora distinguerei due piani un piano strettamente narrativo in cui non essendo io cieco dovevo impadronirmi dell'esperienza di un cieco che cosa ho fatto? mi sono letto una serie di libri diari biografie di persone cieche che sono diventate cieche perché mi interessava capire l'esperienza di chi prima ci vedeva e poi non ci vedeva in particolare un libro molto bello che si intitola Il Dono Oscuro che parla di un cieco di un uomo diventato cieco che arriva a dire che la cecità è stato un dono e lo chiama Il Dono Oscuro questa cosa mi ha colpito moltissimo secondo sono andato a fare una cosa che a Milano si può fare che si chiama Il Percorso al Buio non so se in altre città esista tu vai in un istituto per ciechi dove ti fanno entrare in uno spazio grandissimo fatto di varie stanze totalmente buio ma quando dico totalmente buio vuol dire totalmente buio e sai chi ti fa da guida? Un cieco cioè tu non vedi niente e hai una persona che ti guida con la sua voce e con il suo tocco è stata un'esperienza grandiosa perché tu li scopri di avere altri sensi e siccome viviamo in un mondo Rebecca in cui la vista fa tutto cioè noi alla prima cosa che vediamo di una persona diciamo guarda com'è quella lì guarda com'è quello lì e subito diciamo diamo un giudizio pensa Rebecca se noi non vedessimo Instagram crollerebbe in un attimo non avrebbe senso Instagram immaginati questo per questo bisogna essere ciechi ogni tanto cioè dire io oggi Instagram non lo guardo divento cieco faccio una telefonata a quella persona ascolto la sua voce la vado a trovare la guardo in volto ascolto cosa ha da dire e impiego quell'ora che impiegherei a scrollare le immagini per parlare Rebecca noi viviamo in un mondo in cui siamo vedenti non guardanti vedenti non guardanti Omero Romeo è un non vedente guardante quindi queste sono le cose che mi hanno aiutato a costruire il personaggio ma la verità più profonda sai qual è Rebecca che quello cieco sono io che a 43 anni dopo 20 anni di insegnamento scopro che non so amare i miei alunni non so voler bene ai miei colleghi perché? perché li giudico perché ho aspettative perché li guardo male non li so guardare allora devo fare un passo indietro diventare cieco per accogliere la loro esistenza ascoltare le loro storie e scopro quelle ferite quel modo di essere che me li fa amare perché? perché scopro che sono come me che hanno i miei stessi problemi e che forse mi stavano chiedendo aiuto e io invece li giudicavo quindi attenzione perché narrativamente è un professore cieco ma l'ispirazione viene dal fatto che io sono cieco e questo libro per me è una tappa da cui non voglio tornare più indietro cioè è necessario che io rimanga cieco per aprirmi al mondo veramente grazie a te ci abbiamo adesso ma sto diventando bravissimo Ale visto che rapidità sempre dall'istituto Poloni abbiamo già Maria Merlin sì salve sono Gian Maria Merlin dell'istituto Terza Media Poloni di Monselice e volevo chiederle se è possibile definire il suo libro come un romanzo di formazione e a cosa lo ha spinto a scrivere questo genere di libro allora Gian Maria grazie della domanda con Gian Maria abbiamo fatto prima due chiacchiere grande calciatore esterno del soresino se non sbaglio giusto sei tu no? ecco allora Gian Maria anche se sotto il tuo nome c'è scritto Rebecca ma tu sei Gian Maria non è un romanzo di formazione è un romanzo di trasformazione perché la letteratura quello che fa è raccontarci l'esperienza umana non ci dà le risposte ma ci fa vivere le domande perché dico che è un romanzo di trasformazione perché il romanzo di formazione che cosa indica? il fatto che bisogna dare una forma a qualche cosa che non ce l'ha invece io sono convinto nel mio modo di scrivere e nei romanzi che scrivo che le persone una forma già ce l'abbiano e quella forma gli viene data dalla vita in cui sono capitati ma poco a poco devono impadronirsi di una forma più vera più autentica e quindi non devono trovare la loro forma devono trasformarsi perché trasformarsi vuol dire andare oltre la forma che ti è stata data e questo richiede coraggio e ritorniamo a quello che ci dicevamo prima con Matteo per ricevere una forma non bisogna fare niente a farci invecchiare ci pensa la natura ma a maturare ci dobbiamo pensare noi è questione di decisioni e lì si gioca la partita tu che sei calciatore Gian Maria lo sai se fai quello scatto in più se non ti dai per vinto la partita ha un corso diverso certo puoi dire ormai è andata dai ma chi se ne frega di questa cosa smetto di allenarmi perché adesso non c'è più il campionato eh certo ognuno sceglie che cosa vuole fare ma nel momento in cui scegli prendi una forma cioè ti trasformi quindi io lo chiamerei il romanzo di trasformazione perché l'esperienza che ho della vita è che noi dobbiamo diventare qualcuno non siamo chiusi in una forma che troviamo una volta per tutte ma continuamente siamo in trasformazione cioè togliamo strati come si fa con le cipolle con i carciofi per arrivare al cuore alla cosa più autentica grazie a tutti se avete finito possiamo dare la parola a Margherita Trovò del liceo scientifico regazionista di Padova buongiorno io sono Margherita Trovò e frequento il quinto anno al liceo scientifico regazionista di Padova volevo porre la seguente domanda in che cosa il suo metodo di insegnamento assomiglia a quello del professore come è Romeo ecco Margherita purtroppo non ti vedo probabilmente perché c'è un problema col video ho sentito ho sentito la domanda perché io mi vedo penso non mi vedesse no ma non ti preoccupare comunque ho sentito mi dispiace solo non vederti perché interagire con il volto è sempre è sempre diverso allora in che cosa mi ritrovo? guarda nella grande trasformazione che l'insegnamento ha fatto nella mia vita io insegno da vent'anni e quando ho iniziato a insegnare ero convinto di un fatto che finalmente avrei avuto un pubblico costretto ad ascoltarmi come vedete io sono uno che parla tanto troppo e ho detto finalmente c'è qualcuno costretto ad ascoltarmi le mie storie le storie dei grandi della letteratura mi devono ascoltare cioè interpretavo i ragazzi come pubblico questo è molto pericoloso perché sul pubblico tu hai solo aspettative il pubblico deve applaudire deve compiacerti a poco a poco mi sono reso conto che i ragazzi resistevano alle mie aspettative non erano lì per applaudire anzi erano lì per mettermi in crisi voi siete bravissimi a mettere in crisi esattamente i nostri punti deboli perché volete vedere se quello che vi stiamo dicendo è vero perché volete sapere se si può vivere per quella cosa per cui noi viviamo e dovete continuare a fare così il vostro essere provocatori sempre con educazione e gentilezza è la salvezza di noi insegnanti quindi che cosa c'è di Omero Romeo in me nel mio modo di insegnare il fatto che io mi sono trasformato da uno che pensava di avere un pubblico a essere diventato il pubblico cioè io assisto allo spettacolo della vita diventi studenti che devono diventare un po' più se stessi quindi io mi metto lì e sono io che devo applaudire sono io che devo sorridere e l'ho imparato sai da chi Margherita dal professore di religione della mia scuola padre Pino Puglisi ucciso dalla mafia quando io ero al quarto anno di liceo ho iniziato il mio quarto anno con un professore di religione ammazzato dalla mafia nel quartiere vicino alla mia scuola dove lui ci portava a fare volontariato io venivo da una Palermo che non conosceva questi luoghi e lui me li ha fatti conoscere quell'uomo è morto per le cose che diceva in classe ci metteva in crisi ci apriva gli occhi ci sfidava perché era convinto che fossimo capaci di grandi cose io ho un debito di riconoscenza verso un uomo che è morto per quello che diceva e questo ha fatto la differenza e allora il punto per me è proprio questo non ho un pubblico ma sono il pubblico grazie Margherita grazie bene ora vorrei dare la parola a Domenico Alberton del collegio Vescovile Pio X di Treviso buongiorno professor Davenia mi chiamo Domenico Alberton e frequento la parte ginnasi del collegio Vescovile Pio X di Treviso e sono seminarista professor Davenia leggendo la sua biografia ho notato che come insegnante di religione delle superiori ha avuto Don Pino Puglisi oggi venerato come martire e beato così mi sono a lui ha dedicato il suo libro ciò che inferno non è così mi sono posto la seguente domanda Don Pino Puglisi suo ex insegnante ha lasciato in lei segni profondi così ciò ha influito sul suo modo di leggere i ragazzi e di rapportarsi con loro grazie della domanda bellissima vedi l'avevo già avevo già risposto senza rendermene conto e ti risponderò con un episodio del processo il suo assassino che ha cambiato vita dopo averlo dopo aver ucciso padre Puglisi alla domanda del magistrato perché l'avete ucciso ha risposto perché si portava i picciri di Cuidu traduco per quelli che abitano sopra lo stretto di Messina perché si portava i bambini con lui perché per la mafia è pericoloso un uomo che si porta i bambini con lui tanto quanto un falcone borsellino uccisi esattamente un anno prima di Don Pino perché vuol dire che li sottraeva a che cosa ha un ideale di vita fatto di successo forza che la mafia ti garantisce e quindi diventa pericoloso perché li rende liberi liberi è una parola che viene dal latino che vuol dire figli noi per dire la parola libertà utilizziamo una parola che il latino vuol dire essere figli padre Puglisi si chiama padre Puglisi perché ha generato alla vita tanti figli e li ha liberati grazie a questo questo mi ispira io voglio che i miei alunni sentano di avere in me un padre non un padre chiaramente in termini biologici ma un padre nel senso di qualcuno che è disposto a difendere le loro vite e a sfidarle perché questo fa un padre un padre ti insegna ad andare in bicicletta un padre ti insegna a nuotare lo fanno anche le madri adesso non sto parlando del ruolo maschio femmina sto parlando semplicemente di quell'educatore che ti mette nella vita facendoti superare il tuo limite ecco padre Puglisi mi ha insegnato quello che non bisogna coccolare gli adolescenti bisogna sfidarli ma che mentre li sfidi si devono sentire amati cioè far vedere loro che hanno qualcosa di grande da fare da dire perché il suo assassino si è costituito perché quando gli hanno sparato lui l'ha guardato in faccia e gli ha sorriso e ha detto vi stavo aspettando l'assassino dice uno che aveva già fatto una cinquantina di omicidi a trent'anni lo chiamavano il cacciatore perché era letale nel compiere questi omicidi lui dice io da quel giorno ho smesso di dormire la notte che cosa si era successo che quel sorriso aveva detto a quell'uomo assassino vedo dentro di te una vita che è ancora imprigionata ma che è bellissima per quello non dormiva la notte allora ecco che cosa ha lasciato a me ed è quello che io gli chiedo in dono tutti i giorni che mi presti quello sguardo che fa sentire un ragazzo amato in profondità cioè che la sua vita è bella anche se lui fa delle cavolate anche se fa delle schifezze anche se sbaglia un compito anche se fa degli errori non importa la vita è bella perché non gliel'ho data io non se l'è data a lui ma gliel'ha data a qualcun altro che ha scelto che quella vita ci fosse perché era necessaria al mondo questo è liberante è liberante perché io così non ho più aspettative ma il mio compito è semplicemente rendere più libero quel ragazzo quella ragazza grazie della domanda perfetto adesso passiamo la parola a Mattia Baccan dell'Istituto San Lorenzo di Novara ragazzi Mattia non è connesso avuto un problema tecnico potete fare voi la domanda certamente un attimo che la prendo allora dal suo punto di vista quali sono i punti di forza e di debolezza del sistema scolastico attuale ragazzi qui dovremmo fare dovremmo fare un'altra un'altra ci troviamo un'altra volta mi date altre due ore perché questo è a parte che su questo divento pazzo quindi meglio meglio che io non risponda perché se no mi arrabbio allora voi avete la fortuna di stare in scuole in cui almeno il messaggio ufficiale è quello che ogni persona conta come unica io apprezzo la frase di un filosofo cristiano che dice che il dio cristiano sa contare soltanto fino a uno ecco la debolezza del sistema scolastico è avere trasformato l'uno in una cosa uguale per tutti cioè noi viviamo in un sistema scolastico che spersonalizza le persone le rende tutte uguali di fronte a qualche cosa che devono imparare la scuola italiana diventa così un addestramento io dico delle cose tu le ascolti le memorizzi e fra due settimane me le ripeti questo lo fanno le scimmie i cani i gatti caddestri la scuola per me è un'altra cosa la scuola per me è un'altra cosa Einstein diceva non perdete tempo a fare interrogazioni ai ragazzi in cui cercate quello che non sanno fate interrogazioni ai ragazzi in cui scoprite in cui scoprite quello che sanno e quello che ancora possono scoprire durante quell'interrogazione questo non è addestramento questa è ricerca questa è scoperta ecco la prima debolezza che io vedo nella scuola di oggi è che ha impostato un sistema che sterilizza questa ricerca più profonda della vita ma addestra perché in fondo quello che serve che cos'è che tu ti addestri a fare dei test degli esami perché hai una carriera e invece no la scuola serve a imparare ad abitare dentro se stessi prendersi cura di se stessi e del mondo se avete visto lo spettacolo teatrale lo dico in due battute quando Socrate risponde ad Alcibiade che si lamenta sul fatto che Socrate è fissato che bisogna conoscere se stessi e Alcibiade dice hai ragione Socrate ma è difficile è faticoso è impegnativo e Socrate cosa risponde? Alcibiade se noi non conosciamo noi stessi non sapremo come prenderci cura di noi stessi allora secondo me questo manca alla scuola e Socrate è colui che ha inventato la scuola occidentale scolè in greco voleva dire tempo libero come si chiama la scuola oggi in Italia scuola dell'obbligo abbiamo un problema ragazzi quel problema me lo dovete risolvere voi perché io già sono troppo anziano per riuscirci quello che voglio è che voi facciate questa rivoluzione quella che io chiamo ribellezza cioè quel quel riprendere veramente l'unicità delle persone e metterla a tema che siano più importanti le vite dei programmi poi è chiaro che i programmi bisogna farli ma come occasione per far crescere le vite noi abbiamo fatto un divorzio fra istruzione ed educazione e questo rende di voi rende voi che cosa dei cervelli staccati dal corpo che devono immagazzinare delle cose e poi dimostrare di averle fatte per me questo non è scuola che l'ultima domanda ce l'abbiamo quasi fatta buongiorno sono San Gamde Zen dell'istituto Cavanesi di Possagno e cerco la terza media e io e la mia classe volevamo porle questa domanda c'è qualcosa che avrebbe voluto modificare solo dopo la pubblicazione del suo libro? allora bellissimo tra l'altro a Possagno ci sono stato tanti anni fa per per incontrare i ragazzi posto posto pazzesco mamma mia uno gira l'Italia e scopre che ci sono dei posti di una bellezza poi così canova vabbè vabbè troppo lungo sarebbe il discorso allora ti cito una scena bellissima del film Amadeus di che parla della vita di Mozart non so se l'avete visto a un certo punto Mozart ha creato un'opera musicale totalmente nuova che è il flauto magico perché è un'opera che ha musicalmente delle genialità delle cose straordinarie ed è in lingua tedesca cioè l'opera in genere era in italiano e invece lui fa un'opera composta nella lingua che parlava e questa cosa chiaramente è una grandissima novità perché tutti i geni quello che fanno è aprono strade nuove e nel film il colui che l'ha ascoltato su altezza il re si avvicina e Mozart è lì che aspetta un commento e il re dice sì molto bello senz'altro una cosa originalissima però troppe note troppe note e Mozart fa non capisco non capisco è troppe note troppo lungo e Mozart dice ci sono tutte quelle che erano necessarie allora su altezza che non può essere contraddetto dall'artista dice vabbè ma è evidente che era troppo ce n'erano troppe e Mozart risponde mi può dire per favore da quali comincerebbe perché io le tolga e il re azzitisce allora che cosa cambierei nel mio romanzo neanche una parola perché se l'ho pubblicato vuol dire che io ero contento del punto in cui era arrivato cioè per me era maturo io non pubblico niente che non ritenga essere pronto e maturo e fecondo il che vuol dire che anche agli occhi del pubblico può essere percepito come qualche cosa di a volte di faticoso qualcosa che ha troppe note troppe parole ma la sfida di un artista è proprio questa essere fedele alla propria ispirazione e non lasciarsi condizionare delle aspettative degli altri questo è un libro in cui io sapevo di sfidare il lettore ci sono parti molto complicati in cui si parla di fisica di astronomia bene c'è quello che io ritenevo necessario ma questo ve lo dico per un motivo ragazzi non per dirvi che sono bravo e sono arrivato io sono uno scrittore che non sa neanche perché è uno scrittore cioè ogni volta che comincio a scrivere dico ma io non la so fare questa cosa come si fa ho paura ho paura tanto quanto voi devo rischiare ogni libro ogni libro che ho scritto è diverso dal precedente quando ho scritto il libro su Leopardi tutti mi dicevano sarà un flop sei pazzo un saggio su Leopardi sfigato andrà malissimo ma fai una cosa di successo quello che già sai fare ed è stato uno dei libri di maggior successo che ho scritto questo ve lo dico perché perché dovete essere fedeli alla vostra ispirazione quello che ci ricordano gli artisti è questo che la novità che c'è da portare nel mondo quel qualcosa di grande che c'è da fare ce l'avete già dentro se cercate le vie sicure le vie certe le vie del successo voi sterilizzate la vostra ispirazione perché l'ispirazione è il respiro di Dio in ogni creatura quella sua unicità e Dio vuole vedere le sue creature fiorire ma le lascia libere di farlo cioè bisogna rischiare ve la ricordate la parabola del talento chi sotterra il talento chi è chi cerca le vie sicure chi in fondo non rischia mai che fine fa chi ha sotterrato il talento ha sprecato la sua vita mentre chi l'ha moltiplicato chi è è chi ha rischiato chi l'ha impegnato chi si è messo chi ha fallito chi ha fallito fallire è il sale della vita perché perché hai vissuto quindi per favore e chiudo su questo prendete dalla vita di uno scrittore quello che c'è nella vita di ogni uomo che bisogna essere legati a un principio di ispirazione che guida il coraggio della nostra esistenza questa è in altre parole la parola vocazione tu sei chiamato a qualcosa e come dice Sant'Agostino Dio che ti ha creato senza di te non può salvarti senza di te trasferitelo alla vita non alla salvezza che cosa significa questo che tu hai ricevuto una dotazione e quella dotazione quel talento sarà il pieno compimento di te stesso e non si può fare se tu non ti metti in gioco e questo è quello che vi auguro grazie di queste ore passate insieme scusatemi se mi sono preso dieci minuti in più rispetto al programma professore siamo assolutamente noi che ringraziamo lei la ringraziamo per il suo tempo prezioso che ci ha dedicato e sicuramente per tutti gli spunti e le riflessioni che ci ha donato in modo che così da ora per tutti i nostri percorsi di crescita personale potremmo costruire citando su parole qualcosa di grande da verandi ora vorremmo concludere l'incontro leggendo un piccolo estratto del libro il professore Leo a un certo punto dice mi sono preparato non faccio loro nessuna domanda a cui non abbia prima tentato di rispondere noi abbiamo fatto tantissime domande abbiamo veramente avuto la fortuna di poter ascoltare le tue risposte tante domande abbiamo dovuto saltare appunto perché erano come ha detto lei anche all'inizio più di 300 però ovviamente cercheremo di risponderci anche grazie agli spunti che ci ha dato oggi quindi ringraziamo il professore e passo la parola a sua paura Alessandro sono io che vi ringrazio e mi raccomando continuate questo percorso cioè questo incontro che non sia l'emozione o la noia di due ore passate insieme questa è una cosa che dovete continuare con i vostri insegnanti con i vostri presidi con le persone che avete a fianco perché come dice Rilke nelle lettere a un giovane poeta alla vostra età non è importante avere le risposte ma fare le domande giuste e tenerle vive perché la vita poi risponde cioè nella misura in cui noi facciamo l'appello alla vita la vita risponde quindi per favore conservate questo piccolo questa piccola scintilla che magari oggi sia accesa grazie a voi grazie grazie a te Alessandro io dico soltanto che è stata una grande lezione per tutti noi faremo davvero tesoro di tutto quello che ci hai regalato stamattina quegli spunti di riflessione sono tanti dalla domanda su Dio che non deve essere mai interrotta e quindi suscitarla abbiamo un grande compito per tutta la vita quello di puntare sulla relazione come dicevi all'inizio questo momento sad così sad che è la la dub di tristezza può diventare ecco superare il limite e vedere come anche il nostro timore era non coinvolgere i ragazzi ma i ragazzi si lasciano coinvolgere subito e quindi è stato veramente easy poi alla fine avere una classe virtuale nonostante i problemi tecnici e tante postazioni che non siamo riusciti a raggiungere però sicuramente faremo tesoro di tutto quello che ci hai regalato trasmettendolo faremo un uso interno però circolerà questa registrazione tra noi in modo tale che sicuramente ecco tutte le classi e tutti i professori che non sono riusciti ad essere qui con noi potranno avere materiale da diffondere e così concretizzare anche nella vita passo la parola alla presidente per il grazie finale grazie Alessandro grazie a voi mandatemela alla registrazione così mi rimane anche a me il ricordo di questa chiacchierata ok certo Alessandro e poi colgo proprio questa proposta che hai lanciato ai ragazzi noi già abbiamo creato uno spazio sul sito FIDE con i materiali prodotti da tutte le scuole perché ne sono arrivati tantissimi come già è stato detto e magari anche affidandoci ai nostri bravi studenti creare quasi un blog un luogo di ritrovo dove questa esperienza inizia ma non non è conclusa oggi accogliamo questo invito cosa dire innanzitutto e soprattutto un grazie a quanti a tutti gli studenti che hanno partecipato a chi ha preso parte in modo attivo ma anche a tutti gli altri che nelle loro classi hanno approfondito e hanno saputo cogliere veramente la bellezza di questo libro ai docenti che si sono resi disponibili ad accompagnarli e agli istituti che hanno ritenuto questa opportunità una cosa buona per i loro ragazzi e che cosa dire ancora come già è stato anticipato faremo circolare raggiungeremo tutti ma oggi è stato solo l'inizio di una riflessione molto molto importante io l'ultimo grazie no il penultimo grazie lo dico ad Alessandro perché ha saputo veramente accompagnarci e muovere le corde del cuore educativo grazie per la tua passione educativa e voglio concludere con l'ultimo grazie che è un grazie che Alessandro ha scritto proprio al termine del suo libro l'ultimo grazie è all'amore all'amore con la A maioscola che ogni giorno strappa il mio nome al nulla e lo dà alla luce ragazzi per voi possa essere davvero un'esperienza di luce tanti gli stimoli ringraziamo ancora Alessandro ma non finisce qui vogliamo dare continuità grazie ancora a tutti e l'ultima parola ad Alessandro che ci saluta grazie non so se voi li vedete sono meravigliosi i ragazzi sardi che naturalmente hanno appeso la bandiera l'orgoglio sardo sempre al primo posto con un grazie e poi quegli altri ragazzi che hanno i cartelli che ho scritto grazie un po' così personalizzando ognuno la scritta quindi come vedete che bello che la vita quando si apre è riconoscente e riconoscere ed essere riconoscenti hanno la stessa radice quindi ritorniamo sempre a quel discorso ci siamo riconosciuti e quindi siamo diventati un po' più riconoscenti credo che questo sia veramente il segreto della scuola e quello che voi fate è questo quindi grazie a voi e di quello che mi avete donato in queste due ore grazie grazie a tutti buona lezione a tutti buona lezione grazie arrivederci arrivederci grazie a tutti